che interpreta sempre benissimo il sentimento dei sfruttori. Devo dire che raramente ci sono dei sfruttori che interpretano il sentimento dei loro vettori, soprattutto quelli che scrivono un po' di pochino. Molto spesso mi trovo a sentire cose, come per esempio quella di stamattina che ho letto, Berlusconi, il disaccordo sul limite del 5% sulle lezioni, no? E' esattamente il contrario, se fosse tu me lo porterei all'otto.